Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travata91 e torniamo a parlare di un film del DC Extended Universe dopo più di un anno dall'uscita del precedente, che era, ricordiamolo, The Suicide Squad di James Gunn. La DC nel frattempo non è che sia stata proprio con le mani in mano in quanto sono usciti The Batman e La Lega dei Super Pets che per ora erano slegati appunto dall'universo condiviso con cui vorrebbero contrastare il Marvel Cinematic Universe. Sono tornati appunto a ottobre 2022 per la precisione il 20 quantomeno in Italia con il film che, come leggete dal titolo, è Black Adam, film diretto da Haume Collet Serra regista che io effettivamente già conoscevo perché avevo visto i suoi tre lavori precedenti a appunto questo Black Adam, che per la precisione erano dal meno recente al più ridicente. Paradise Beach dentro l'incubo, film di squali piuttosto carino soprattutto se si pensa alla qualità media dei film sugli squali, ovviamente scudendo il capolavoro di Spielberg. Poi aveva tirato fuori The Commuter, l'uomo sul treno, che mi aveva sorpreso molto in positivo nella prima parte e poi nella seconda diventava il classico action tamarro con Liam Neeson, un vero peccato, però la prima parte era fatta davvero davvero bene. E l'anno scorso era arrivato nelle sale Jungle Cruise, voleva essere il nuovo Pirate dei Caraibi, nelle intenzioni lo è, ma nella pratica era un filmetto di avventura che io ho trovato senza infamie e senza lode. Ora appunto lo vediamo confrontarsi con Black Adam. E chi cavolo è Black Adam? Nei fumetti è la Nemesi numero uno di Shazam, anzi ha sostanzialmente i suoi stessi poteri, che ha visto Shazam ricorderà che alla fine del film, spoiler però è un film uscito anni fa quindi non mi faccio troppi problemi, alla fine di Shazam c'era il nostro protagonista principale, Billy, e poi c'erano gli altri suoi coetanei, i suoi amici slash fratelli adottivi, che formavano la Shazam Family, ed erano in sé e mancava poi un posto, c'era un posto vacante tra quelli in cui si sedevano. Quello appunto sarebbe di Black Adam, che vediamo appunto, il nostro protagonista in questo film, interpretato dall'attore Dwayne The Rock Johnson. La storia del personaggio, almeno per quello che riguarda il film, qui valuteremo solo questo, lasciando stare il fumetto anche perché non è che lo conosca granché, però come dico sempre, una trasposizione devi poterla apprezzare, o non apprezzare, a prescindere dalla fonte originale. Comunque appunto il nostro protagonista si chiamava in origine Ted Adam, e faceva parte di un regno ancora esistente, quantomeno nella finzione dell'universo DC, chiamato Kandak, scusatemi, che era appunto un regno prospero, che poi era stato preso da un tiranno che voleva creare anche la corona di Sabak, una corona malefica che gli avrebbe dato poteri infernali. Ai tempi Ted Adam era riuscito a ottenere i poteri appunto di Shazam, era riuscito a sconfiggere il dittatore, però poi era scomparso nella battaglia appunto tenuta contro lui e la corona, combattuta contro di lui la corona malefica, e quasi 5.000 anni dopo, siamo ai tempi moderni, viene risvegliato da un archeologa, ovvero Adrianna Thomas, la quale vorrebbe spodestare gli attuali tiranni di Kandak, perché purtroppo poi Kandak ha subito altri soprusi dopo quell'evento, effettivamente la donna riesce a risvegliare Ted Adam, il quale dovrà scontrarsi sia appunto contro i nuovi oppressori di Kandak, sia contro la Justice Society, un gruppo di supereroi mandati da Amanda Waller, i quali non apprezzano i metodi iperbrutali di Ted Adam, che appunto per salvare tutti fa una strage, uccide i propri nemici in maniera incredibilmente sadica, e teoricamente poco consona a quello che dovrebbe essere un supereroe. Ora, questo film è stato una delle grandi bestie nere della DC, rendiamoci conto che The Rock fu annunciato nel ruolo anni e anni fa, quando DC Extended Universe stava ancora muovendo i primi passi, poi tra impegni dell'attore, rimandi vari, eccetera eccetera, e la solita pandemia che ormai sappiamo a memoria, purtroppo, il film è riuscito ad arrivare appunto solo adesso, e l'intento, almeno da come era stato pompato del marketing, sembrava quello di S, di costituire una sorta appunto di ripartenza per l'incredibilmente zoppicante DC Extended Universe. In quest'ottica ha anche senso l'averlo fatto uscire a più di un anno di distanza dal film precedente, come dicevo prima, come a dire, sì, ok, adesso facciamo un nuovo, una sorta di soft reboot, nuovo starting point, cosa che fa spesso ad esempio la Marvel, quando fa, parlo dei fumetti in questo caso, quando fa ad esempio i numeri 1, quindi questo sarebbe appunto una sorta di refresh dell'universo. Mentre registro il video sono passati un paio di giorni dall'uscita, quindi ancora presto per stabilire se sia un successo o meno a livello di botteghino, a livello di critica, eh, quando ha esordito aveva solo il 50% di recensioni positive su Rotten Tometos, quindi insomma a livello di pari della critica era abbastanza divisivo. Io lo sono andato a vedere il giorno d'uscita col buon Paolo Innocenti, Matioschi e la Sorelloschi, tra l'altro troverete sul canale di Paolo Innocenti la sua video recensione in cui all'inizio appunto commentiamo il film brevemente tutti insieme. Se avete già visto quel video sapete che cosa ne penso, mentre invece se non l'avete fatto scoprirete qui che a me questo film non è piaciuto manco per sbaglio. Ora, io non è che avessi tante aspettative, sinceramente. Se guardate i primi minuti di video che commentiamo anche cosa ci aspettiamo prima di vedere il film, io dico bah, ma aspetto magari un film nella media di quelli che si perdono nei filoni, perché ricordiamo sempre, ne siamo abituati a pensare che un tempo i film fossero tutti belli, che tutti gli horror fossero belli, tutti i thriller, tutti i noir fossero belli e questo vale per tutti i generi, tutti i western, eccetera, eccetera, ma non è affatto così. Molto semplicemente c'erano i vari filoni, al giorno d'oggi ci sono prevenuti soltanto i film migliori, quelli che hanno superato la prova del tempo, ma c'è una pretola di film minori o mediocri o addirittura proprio brutti che per ovvie ragioni nessuno si ricorda più. Io pensavo, eh, Black Adam mi sa che finirà in questa categoria. Magari, magari fosse finito in questa categoria. Mi viene da citare il commento, il post che ha fatto Michele Innocenti dopo la visione, ovvero che viene quasi da volergli bene per come riesce a sbagliare praticamente tutto. Sì, sono così tanto critico. Perché? Partiamo da quello che è uno dei grandi talloni da kill del DC Extended Universe. La costruzione. Sto universo non riesce a costruirsi decentemente. Anche qui c'è la Justice Society. Da dove sono usciti fuori? Nessuno di questi personaggi è mai stato presentato in un film precedente, né in singolo né appunto il team, e addirittura uno dei membri viene descritto come imparentato con il supereroe che portava originariamente il suo nome da battaglia, il suo costume. E questa è la stessa cagata che c'era anche in World of Prey, in cui c'era Black Canary che non era la Black Canary originale, era la figlia, che aveva ereditato i poteri della madre. Tutto molto bello, ma stiamo parlando di un universo che non riesce all'undicesimo film ancora a costruirsi bene. La situazione che vediamo qui con appunto gruppi di supereroi già consolidati, tecnologia fantascientifica che non sai bene da dove è cicciato fuori, ci sono sequenze con delle moto volanti super avanzate appunto che dici ma da quando c'è questa tecnologia nel DC Extended Universe? Veramente, per come è concepito dovrebbe essere il corrispettivo di un film della fase 4 e tralasciando la questione la fase 4 sta piacendo meno. Comunque nella fase 4 si danno alcune cose per scontate, continuano ad apparire creature strane o cose assurde ma ormai si cerca comunque un po' di introdurre vedi Shang-Chi in cui gli anelli sono stati introdotti eccetera eccetera però diciamo che adesso la Marvel dà qualcosina in più per scontato perché dopo che abbiamo visto dei, maghi, tecnologia hyper avanzata, Iron Man e alieni e gemme super potenti eccetera eccetera se a un certo punto ciccia fuori una mega riunione di dei come in Thor Love and Thunder dici ah vabbè ci sono i dei vabbè c'è già Thor quindi chi se ne frega non devi spiegare da dove è uscito ognuna di quelle divinità. qui con un universo che ha sempre avuto un'impalcatura molto molto fragile ricordiamoci anche che ci sarebbe Justice League che non si è ancora capito bene quale cazzo di versione canonica ovvero se quella è data il cinema o la la Snyder Cut cosa che in realtà cambierebbe poco tranne più che altro sto cacchio di Man's Human Hunter che a quel punto esiste o non esiste boh non si sa in un universo del genere voler dare così tanto per scontato per me non è che funzioni tantissimo qualcuno potrebbe dire però scusami anche in super pezza che è una cosa a parte si parte con una Justice League già formata e lì nessuno ha mai fiatato sì ma lì è tutto più leggero e soprattutto è un film animato e nei film animati il tuo cervello sospende l'incredulità al punto tale che se arriva un gruppo di tizi vestiti in calzamaglia che uno vola uno c'ha i gadget per avanzati poi c'è la mazzone l'alieno che crea le cose con l'anello il cyberwork eccetera eccetera te la bevi anche di più senza spiegazioni quando fai invece una cosa in live action in cui la sospensione dell'incredulità per ovvie ragioni ha un livello diverso perché lì comunque il tuo cervello si può illudere più facilmente che quello che stai vedendo sia vero allora devi diciamo saperlo introdurre in una maniera un pochino più oculata e non dare troppo per scontato però anche lì se sei inserito nel DC Extended Universe è un universo in cui teoricamente si è dovuto imparare a poco a poco a conoscere i supereroi ma visto che non hai mai riuscito a procedere in maniera organica non si è mai riusciti bene a dire ok siamo in un punto in cui puoi dare tutto per scontato forse un pochino appunto con The Suisse Squad che non a caso è l'unico film di questo universo che mi sia veramente piaciuto al 100% e infatti l'ho acquistato dove qui appunto ci sono tutti sti tizi che effettivamente dai per scontato però anche qui c'è una messa in scena talmente assurda in questo film in The Suisse Squad intendo talmente anche appunto grottesca cartunesca eccetera che se dai per scontato le cose e vedi i personaggi con i poteri più strani dici beh sai che c'è ok te lo posso accettare qui dove il tono vuole essere comunque un minimo più serioso non ai livelli ormai da meme dei film di Snyder però comunque vuole essere un pochino più serio dare così tanto per scontato boh non mi convince anche perché poi la presentazione del team della Justice Society è la stessa fottuta identica che vediamo in The Suisse Squad non a caso a capo di entrambi questi gruppi ci amanda Waller ovvero ci sono dei personaggi che parlano e si vedono e appunto dice ecco questo è Minchionis de Minchiones nipote del Minchiones originale ha i suoi stessi poteri questo è il dottor Salcazzo ha questi poteri pipira pipira e andiamo avanti così si lo so sono cattivo però comunque a parte gli scherzi il concetto è un po' quello a parte i nomi idioti che ho detto io e sinceramente cioè no siamo al punto assurdo in cui da un lato ci servono più presentazioni perché non puoi dare così tanto per scontato ma dall'altro lato effettivamente sei già avanti con l'universo il dover vedere queste spiegazioni così veramente da bignami ti fa fare face palm quindi niente è in un punto in cui come fa ti risulta veramente straniante però uno dice ok un film può avere i problemi editoriali che vuoi dovuti all'universo però devi anche saperlo valutare come film in sé detto appunto sui 6 squad cioè dei 6 squad che appunto c'ha sta roba sebbene mitigata del fatto che è un universo non proprio ben costruito però come film ha preso a sé regge perfettamente qui è la stessa cosa ovviamente no perché altrimenti non avrei esordito nel modo in cui esordito e allora a livello tecnico gli effetti visivi allora ne ho parlato anche in faccia di nerd dove li ho definiti veramente brutti a mente fredda c'è di peggio non sono il massimo ma c'è effettivamente di peggio ripenso al primo black panther finché a me è piaciuto molto ma gli effetti visivi obiettivamente scricchiolavano parecchio questo effettivamente li ha un po' meglio quindi da quel punto di vista non dico che lo salvo in toto ma effettivamente è quanto meno decente la colonna sonora ecco qui c'è un problema ovvero i brani originali in sé sarebbero anche carini quando partono all'inizio che si vede anche il logo di DC Extended Universe tu sei lì che fai oh dico potrebbe anche caricarmi bene quasi quasi dai riesce riesce a coinvolgermi colonna sonora che tra l'altro è composta da Lorne Balf che è uno dei collaboratori diciamo della scuola Zimmer infatti ha collaborato pur senza essere il compositore principale ad esempio alla colonna sonora del Cavaliere Oscuro e anche di The Lego Batman sempre appunto per restare in tema DC non è la più bella colonna sonora del mondo però appunto i brani in sé non sono male il problema è come sono inseriti nel film in dei momenti che veramente non si incastrano bene con le immagini ma il peggio arriva quando restando in tema James Gunn il film cerca di fare la mossa guardiani della galassia ovvero metti le canzoni pop nei momenti d'azione oh mio dio basta James Gunn lo sa fare evitiamo di farlo fare alla chiunque perché anche qui è un disastro ci sono delle scene che vorrebbero essere epiche o divertenti appunto anche con la colonna sonora e invece ero di che lo guardavo e pensavo ma che cacchio sto vedendo slash ascoltando anche come regia io devo capire che Caspio sia successo al buon con le serra che Paradise Beach era stato bravo Commuter la prima parte The Commuter la prima parte era stata veramente bella poi si era un po' arenato appunto con la parte action qui veramente a me le sequenze d'azione ho visto che a molti sono piaciute io più che la regia in sé proprio il montaggio come viene fatto che in un paio di punti è veramente confusionario lì che cercavo dai adesso proverò a divertirmi un po' con le scenazioni insomma 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 appunto a livello tecnico il film non è niente di che però potresti dire sì vabbè però smontarlo troppo non ce ne sarebbe la ragione il problema sta in storie tematiche e principalmente i personaggi sono tutti dei completi imbecilli in un modo o nell'altro in particolare il figlio di Adrianna che non mi ricordo il nome è Amon il figlio di Adrianna appunto l'archeologa che dicevo prima Amon è insopportabile io ho sempre detto che mi piace vedere i bambini i ragazzini nei film di supereroi perché alla fin fine sono loro il target primario di questo tipo di storie e quindi vederli che si interfacciano con i supereroi i supereroi che fungono magari da fare o che danno loro speranza eccetera a me piace molto una delle cose che più apprezzo facendo una prendo una piccola parentesi in Spider-Man 2 l'ho detto anche quando parlai della trilogia di Raimi era proprio che spesso Spider-Man interagisse anche brevemente con dei bambini e si facesse capire appunto come riusciva essere appunto un esempio una speranza un modello come dicevo un attimo fa qui però è semplicemente un ragazzino insopportabile che fa dei moralismi che sarebbero anche corretti insieme ma messi in scena in una maniera petulante che me lo rendono solo insopportabile e in generale però tutti i personaggi non li ho sopportati la Justice Society per me è un quartetto di personaggi abbastanza brocchi e in particolare il casino vero si tira fuori quando le ideologie di Ted Adam e della Justice Society si scontrano perché si portano dietro due problemi problema uno appunto la Justice Society fa la morale a Black Adam o Ted Adam come preferite si avete notato l'assonanza quindi avete capito perché si chiama perché del nome moderno diciamo comunque i due ci hanno questo confronto in cui soprattutto uno dei membri Hawkman continua a dire a Ted Adam o Black Adam come preferite i suoi parole non uccidono così non si fa eccetera eccetera che sarebbe anche un bel messaggio se non fosse che siamo negli Sixth and the Universe in cui abbiamo visto un sacco di volte gli eroi fare così Superman il famoso Batman di Ben Affleck che è dal 2016 che c'è questa cazzo di diatriba Wonder Woman ma anche nella Snyder Cut ricordiamolo per far fuori un rapinatore faceva così disintegrava un cazzo di rapinatore che gli bastava fare un guffetto lo buttava a terra e soprattutto sfondava un'intera banca però oh figata l'epopea di Snyder ecco la cazzo di bobea di Snyder quando poi effettivamente arrivi a fare le moralette sul non si uccide non risulti credibile e anche per dire per citare un film molto bello Batman il ritorno di Tim Burton per me il grosso difetto di quel film è quando alla fine Bruce Wayne diceva Selina Kyle no non ammazzare personaggio che sa che ha visto il film non si fa è sbagliato consegniamolo alla polizia e poi andiamocene ma Batman è dal film precedente di Tim Burton che ammazzi gente cos'è questo improvviso moralismo non sei molto credibile infatti è l'unica scena di Batman in ritorno che a me non piace che per il resto per me è un film fantastico vuoi fare uccidere i supereroi ok ma tieniti presente che poi sta moraletta non la puoi più fare la scena di Batman che dice Catwoman non uccidere viene fatta anche in The Batman ma visto che lì Batman davvero non uccide mai lì la morale la può fare perché gli stesso è coerente e infatti se notate sta cosa nella Marvel non la dicono mai proprio perché li ammazzano abbastanza facilmente l'unico casino è stato Spider-Man che in Uncoming diceva non voglio uccidere nessuno e poi attivava l'uccisione istantanea in Endgame ok che era una situazione disperata però non era molto carina come cosa e poi comunque in No Way Home con tutti i suoi difetti provava ad ammazzare uno dei cattivi ma veniva fermato da qualcuno che gli diceva no non si fa e lì la cosa aveva effettivamente una sua coerenza qui questa coerenza non c'è e in più diciamo che il tutto porta a delle riflessioni e a delle morali che quando a un certo punto viene enunciata una certa cosa e Matteo che ci siamo girati e quasi noi abbiamo detto ma è un messaggio orribile veramente è un film che a livello contenutistico è veramente tremendo ed è assurdo perché Dwayne Johnson The Rock che è sempre stato estremamente è uno di quegli attori che ha un mega controllo creativo nei propri film ha sempre tirato fuori dei messaggi banali ma tutto sommato positivi anzi a volte anche iper moralisti ricordiamo tutti un po' di anni fa il Watch Together fatto sul mio canale in Rampage in cui fu lì che io coniai la mia gag di l'uomo ovvero in quel film The Rock continuavo a dire ahia gli umani fanno schifo sono brutti e cattivi invece gli animali sono tutti santi che è una boiata moralistica cioè va bene essere ambientalisti e animalisti sono d'accordo però così è veramente esagerato e infatti appunto ci scherzavo sopra con l'uomo cattivo però appunto lì The Rock provava a mettere un messaggio anche positivo poi si vedono anche i Jumanji in cui si parla della necessità di cooperare eccetera in generale The Rock proprio anche come nei personaggi che ha interpretato non è mai stato un grande attore diciamo se parliamo di attori wrestler il migliore non può che essere l'unico grande incommensurabile Dave Batista quello è un cacchio di attore coi controfiocchi ricorderò sempre il suo ruolo breve ma bellissimo in all'inizio di Blade Runner 2049 giusto per dirne uno The Rock non si avvicina neanche a quella bravura ma The Rock è molto bravo a vendersi The Rock è un ottimo venditore di se stesso e quindi quando tu lo vedi sullo schermo non può che risultarti simpatico qui no è perennemente immugionito sono Black Adam sono un cattivo nei fumetti e quindi devo fare così sebbene poi il film voglia presentarmi come buono perché sono The Rock e The Rock non può essere troppo cattivo ma poi anche monolitico come abbiamo detto a facce di nerd si muove soltanto in linea retta lo vedi proprio così immobile che ha la mente soletta dei cavi che fa oppure o va giù così in questo tentativo di voler fare il solenne che però non funziona proprio e tra l'altro mi ero scordato una cosa della regia c'è chi ha detto che questo vuole essere un film snyderiano e infatti sembra una brutta coppia di snyder che già ma snyder non fa impazzire appunto The Rock che fa così muovendosi in linea retta è chiaramente un tentativo di replicare la solennità dei supereroi divini che appunto snyder aveva infilato nei suoi film ma soprattutto c'è la questione del ralenti nel trailer si vedeva questa ragazza con questo costume verde che è una dei membri della justice society che si chiama cyclone e appunto la si vedeva che faceva questa mossa in mezzo ai colori appunto la faceva ralenti oh tutte tutte le scene di combattimento di questa qui è lei che fa le coreografie a ralenti tutte tutte è ridicolo da fare schifo neanche snyder abusa così tanto dei ralenti e ricordiamo il famoso conteggio durante il watch to getta della snyder cut in cui 4 ore arriva a farne 70 e qui più o meno arriva a farne non dico cioè arriva a farne non altrettanti però comunque in un film che dura la metà ne fa più della metà il regista qui rispetto a quanti ne faceva snyder appunto nella snyder cut mamma mia insopportabile poi c'è un altro ralenti che unito alla musica vorrebbe citare una sequenza ormai iconica di un altro cinecomic non DC e io anche lì quando l'ho visto ho fatto basta l'hanno già fatta l'ha già riproposta è normale ci sono quelle scene quelle dinamiche iconiche che vengono sempre riproposte in maniera molto più scialba rispetto alla prima volta che le abbiamo viste questo è uno di quei casi e continuo a dire no basta non fatelo più l'avete già fatto è stato figo mo basta il risultato quindi è un film che veramente io quando avevo finito di vedere ho notato che sta piacendo a un po' di persone buon per voi ma io no io non ce l'ho fatta poi scena a mid credit che era il segreto di Pulcinella spifferato da The Rock in lungo e in largo come se cioè siamo veramente arrivati al punto in cui la cosa più interessante di questo film è la post credit cioè è successo con alcuni film dalla Marvel e non è che fosse una cosa positiva per quei film dobbiamo cioè cara di sì devi proprio riproporre questa caratteristica della Marvel al cinema non mi sembra proprio il caso e che poi scena post credit che si porta dietro una serie di implicazioni che veramente cara di sì ma quando cazzo la imparerai mai a quanto pare quando imparerai mai scusate la la rima involontaria e che dire niente a me questo film appunto non è piaciuto per nulla ma per argomentare meglio adesso ho bisogno di fare qualche spoiler quindi saluto chi non ha visto il film la parte senza spoiler finisce qui se il video film vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate e tornate quando avrete visto il film mentre invece per chi non l'ha visto o se ne frega degli spoiler 5 4 3 2 1 spoiler allora togliamoci la scena iconica riproposta scena di The Rock cioè Belecada ma rallentatore che fa il culo a tutti poi è inserito a una velocità normale si vedono gli effetti a mo la scena di Quicksilver da X-Man Giorni Futuro Passato era bellissima quella sequenza ma basta e l'hanno rifatta in X-Man Apocalisse più esagerata l'hanno rifatta in maniera divertente effettivamente in nella Lega dei Super Pets sicuramente in altri contesti l'hanno anche fatta che adesso non mi vengono in mente e mo lo fanno anche qui veramente con quella musica bruttissima l'unica cosa carina è lui che ficca la granata in bocca a ore quando si ritorna a velocità normale lui fa ma che cabum e la granata gli esplode ok sì quella cosa lì ammetto che mi ha divertito il resto della sequenza veramente ero lì ma basta basta riproporre sta scena sia in cinecomica che da altre parti e parlando in questo caso di avere proprio omaggio a una per la storica del cinema si vede a un certo punto in una sequenza che stanno guardando in tv il buono il brutto il cattivo e poi c'è una sequenza che richiama il triello finale di il buono il brutto il cattivo davvero? ma adesso al di là della questione capolavoro inserito come citazione in un film brutto che è quello dici vai a gusti magari c'è chi quella scena lì me la riproponi in uno star wars io ci posso anche stare perché star wars ha l'estetica da western tra le mille e mille estetiche che ha ma qui un film con un super eroe che deve sventare cioè perché c'è il dittatore che comanda una nazione un paese nel deserto quello è più per un pugno di dollari che il buono il brutto il cattivo parlando della questione justice society c'è atom smasher questo ragazzo che è il nipote dell'originale atom smasher che tra l'altro appare in un camion interpretato da henry winkler ovvero il fonzi di happy days se lo ammetto quella cosa mi ha divertito però perché continuare a mettere questa sorta di legacy che voi direte ma l'ha fatto anche la marvel occhio la marvel l'ha fatto in ant-man e ti ha mostrato tutto un film con ant-man che veniva addestrato l'originale che ti raccontava un paio di informazioni della sua storia c'era stata una costruzione qui salve sono l'ipote dell'altro smasher originale e che cazzo era l'altro smasher originale boh chi se ne frega andiamo avanti e negli altri casi di supereroi che non erano la prima incarnazione di quel superero tipo capitano marvel carol danvers non è stata la prima nei fumetti ma nel film lo hanno semplicemente saltato e cambiato un po' le carte in tavola finché tu non sentissi che c'era stato un capitano marvel prima di lei questa cosa aveva già più senso idem per i guardiani della galassia semplicemente la prima formazione non l'hanno mai mostrata anche perché sarebbe stato un casino sapendo le origini ne hanno citati alcuni membri tra cui ad esempio yondu però lì sono stati bravi a rimaneggiare il tutto in maniera tale che tu appunto non sentissi una legacy mancata qui invece devi dire sta roba e boh a me fa veramente strano poi vabbè il ruolo del personaggio non è niente di che si ingrandisce un paio di volte e fa un paio di battute del cacchio giusto più che altro come che continua a fargli tu e io alla fine della missione cosa che tra l'altro poi non vedremo mai e c'è chi ha detto ma la maschera assomiglia un sacco a quella di Deadpool ma con un colore diverso sì ma obiettivamente chi se ne frega cioè capita che ci siano supereroi che hanno i costumi simili io non starei lì a frignare troppo per questa cosa mi sembra veramente il meno però carino quando lui e Cyclone danno il mantello alla ragazzina e dice wow il mantello come i supereroi e Cyclone ma in realtà statisticamente sono pochissimi i supereroi a portare il mantello che in effetti è vero perché noi pensiamo soprattutto a Batman e Superman che li hanno e sono parte della loro del loro outfit ma se pensiamo pensate a tutti i supereroi dell'MCU o del MCU visti al cinema in quanti hanno il mantello Superman e Batman appunto Visione Thor Strange che ha la cappa della levitazione ok ma a parte questa non è che me ne vengono in mente tanti altri anche se mi venissero in mente sarebbero comunque appunto una parte veramente veramente minima ah beh giusto c'è il Dottor Fate in questo film interpretato da Prince Brosnan che tra i vari membri della Justice Society è quello che mi è stato un po' più simpatico e anche quello con la CGI migliore ha lo svantaggio che lui è il corrispettivo di Strange nella DC o credo che sia più corretto il contrario cioè nei fumetti è Strange essere il corrispettivo del Dottor Fate nella Marvel però cosa succede come al solito siccome la DC al cinema arriva sempre poco l'incarnazione cinematografica sembra ah guarda la brutta copia della DC del Dottor Strange eh purtroppo è il destino della DC da quando è arrivato al cinema unica eccezione a Aquaman che è arrivato prima di Namor sebbene nei fumetti sia l'opposto cioè questa inversione continua al cinema che mi fa sempre morire da ridere poi appunto carino che si sacrifichi perché dice ho visto il mio amico come morire non voglio che muoia poi ho già vissuto abbastanza tutto bello però anche lì è un personaggio alla fine del suo percorso introdotto fin da subito che muore subito e cioè non stiamo parlando sempre tornando lì di un di un Michael Douglas in Ant-Man che se Hank Pym fosse morto nel primo film ti aveva dato cioè per come era costruito il tutto avresti detto ok ci può stare poi vabbè Hank è ancora vivo però metti anche caso che muoia in Ant-Man and the Wasp a Quantumania avrebbe avuto un suo percorso e quindi che muoia in quel momento dice ok ma qui un po' dispiace però concordo con chi ha detto che Fate funziona più che per il personaggio in sé perché c'è Prince Brosnan che ha un carisma e lo riesce a interpretare bene si diverte abbastanza ha detto che l'ha fatto perché il figlio è un grande fan di Strange ed essendo Strange ha già prenotato ha interpretato la cosa più simile a lui che c'era ok il costume gli sta abbastanza bene nel senso riesco a bermi che uno possa indossare una cosa del genere in live action cosa che alla Marvel riesce quasi sempre tranne alcune cose ultimamente tipo il personaggio introdotto nella mid-credit di Tor Love and Thunder con la DC alti e bassi qui il tutto risulta credibile le ali di O come sono il problema maggiore perché sono fatte con una CGI veramente brutta secondo me però insomma la Justice Society come team in sé non mi ha convinto più di tanto anche perché siamo la Justice Society e chi cazzo siete cioè veramente ma possibile che il miglior team della DC visto al cinema sia di supereroi quindi non contiamo gli antieroi della success squad possibile che il miglior team siano la lega dei super pets porca miseria cioè loro sono i migliori veramente fantastici ma anche la Justice League che c'è in quel film è stupenda la voglio datemi quella fanculo stica sto cazzo d'universo ma parliamo del nostro protagonista si scopre che il campione scelto dai maghi per essere l'originario Shazam Black Adam come preferite non era colui che è interpretato da The Rock ma suo figlio cioè sostanzialmente il figlio era stato scelto per essere il campione il re si era vendicato del del fatto che lo stava usurpando uccidendo la madre e il padre il padre però era ancora vivo e quindi il figlio gli ha trasmesso i poteri per poi essere ucciso subito dopo dalle guardie del re sta lasciando che come ha detto Mattioski la freccia lo colpisce qui ma poi le guardie sono dietro come cazzo ha fatto la freccia ma vabbè ma poi scusatemi come cazzo lo stava combattendo il re cioè con quei poteri lì nel film all'inizio sembra subito dopo aver ricevuto i poteri il campione andò dal re gli fece il culo quadro sì perché non l'ha fatto cioè sei super potente pigli il re gli tiri una schicchera il re o schiatta o comunque finisce capò e dici ok e poi dice tutti i soldati ok mo basta opprimere la gente sennò vi faccio il culo così non succede il ragazzo faceva non so bene che cosa e e alla fine il padre appunto incazzato nero per la morte del figlio va e uccide sia il re gli distrugge il palazzo eccetera e questa cosa non piace ai maghi che lo imprigionano tralasciate il fatto che che cazzo serve imprigionare uno se basta letteralmente che Adrianna inciampi lega l'iscrizione e lui si libera wow cioè tutta la dinamica ricorda molto la mummia di Sommers no il tizio imprigionato nella grotta eccetera solo che lì appunto c'era la città dei morti che era difficile da trovare protetta dalle guardie l'incantesimo era in un libro ti serviva la chiave per aprire il libro la chiave di aprire il sarcofago cioè si dovevano incanellare tutta una serie di avvenimenti per liberare Imhotep lì qui invece veramente oh sono inciampata e blackout ma risvegliati boom sei risvegliato ok poi non mi è piaciuto il prologo con la classica voce narrante per carità è classico dei fantasy ma qui non ce n'era bisogno cioè potevi secondo me integrarlo bene spiegandolo durante la narrazione anche perché in alcuni punti ci sono delle spiegazioni leggermente ridondanti secondo me potevi inserirle lì meglio ed evitarti lo spiegone il classico spiegone iniziale io l'avrei sinceramente preferito comunque appunto ci sono questi plot twist assurdi tra l'altro l'ha già spoilerato nei trailer che lui era il padre di un ragazzino ucciso quindi perché cazzo spoilerare il plot twist nel trailer vabbè e l'altra cosa comunque appunto i maghi si sono incazzati con lui perché ha ucciso ma anche qui ma mi superiore di si hanno già ucciso allora se volevano metterla giù bene dovevano fare così lui arrivava lì ammazzava il re e gli dicevano guarda i maghi l'avrebbero anche tollerato perché in un regno tirannico bisogna far fuori il tiranno purtroppo per diciamo arrestare il tutto non è che basti proprio questo però diciamo che quando sei così potente sei con un fulmine fulmine il tiranno diciamo che magari i suoi sottoposti si calmeranno un po' e potevi fare appunto che lui che magari facevi vedere lui che ammazzava il tiranno i soldati si arrendevano qui dicevano ok basta hai vinto non ti combatteremo stai tranquillo hai vinto tu e nonostante appunto i soldati si fossero arresi lui li avesse uccisi comunque in stile finale di Game of Thrones non so sapete a cosa mi riferisco e chi non lo sa almeno non si spoilerà nulla appunto se faceva una dinamica del genere avrei capito dicevano cazzo quelli si erano arresi e tu li hai uccisi lo stesso lì invece sembra lui arriva lì c'è lì la corona che il sovrano sta penossare la corona lui lo disarma e poi fa esplodere tutto e anche qui ok sei stato uno stronzo a fare questo e Superman che prendeva il tipo lì il dittatore se lo trascinava via all'inizio di Batman Superman quello andava bene e già so che voi direte eh ma c'era la donna che piangeva per la cosa sì ma in teoria lei aveva torto cioè il figlio le voleva dare torto quindi non si capisce bene c'è questa sorta di ambiguità morale che poi si risolve nella frase agghiacciante in cui Hawkman gli fa eh tu però non sei un eroe classico e Adrianna è vero ma l'oscurità che c'è in lui può gli consenti di fare cose che voi eroi comuni non potete fare quindi capito bello uccidere la gente perché essere un eroe senza macchia che preferisce evitare di uccidere a meno che non sia strettamente necessario allora no ammazzate pure eh viva i miei messaggi della DC eh la DC adulta mi dicono eh ma vaffanculo con tra l'altro il momento in cui Ted Adam ricorda suo figlio e dice eh la verità è che il mondo era più bello quando c'era lui e io lì sono morto da ridere perché cazzo ma va vero cioè in America non ce l'hanno con quella la frase quando c'era e quindi io capisco che sentendolo cioè che loro non si siano fatti prima a scrivere questa battuta ci sta ognuno ai propri modi di dire che magari risultano sconvenuti da altre parti ma non lo puoi sapere però anche i doppiatori italiani rattatori potevano tradurla in il mondo era bello solo quando era vivo ma stava a dire così dai non proprio che replichi quella battuta poi cazzo c'è De Rocca che qui che non ci aveva fatto caso ma con la pelata così il tono sembra la versione iperpumpata del del duce porca miseria cioè veramente no quel messaggio lì è terribile e non ammetto scuse qui veramente no 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 e appunto ma anche ieri Marvel uccidono sì ma lì cioè il punto è sempre quello nella DC sono sadici nell'uccidere nella Marvel a parte contro Thanos in Endgame soprattutto all'inizio di Endgame quello all'inizio di Endgame e lì la cosa comunque non è che viene poi mostrata in maniera esaltata lì potevi anche capirlo qui veramente sono sempre incazzati a gratis cioè che poi è strano è un film che un po' sembra voler essere Snyder un po' no perché dice non si uccidono gli scagnozzi così male come invece faceva Snyder no però alla fine va bene ma ci vogliamo decidere anche perché poi c'è lì Amon che dice cioè con Tetana che dice eh qualcuno gli deve insegnare la violenza e lui ma chi mi insegna la violenza? ma nessuno i supereroi non fanno questo innanzitutto però poi alla fine sono tutti uniti lì con sto cazzo di simbolo della rivoluzione che è piuttosto equivoco e tutti a fare viva il campione viva il campione che insegna la violenza ai nostri bambini con veramente la folla che poi va a affrontare le armate di teschi alla fine che tra l'altro di scheletri scusate che tra l'altro sembrano sembravano la folla di Halloween Kills il male muore stanotte il male muore stanotte in questo caso invece gli scheletri di merda cadono come niente veramente ma che cazzo di armata delle terebre citazioni volontarie al capolavoro direi mi lasciamo stare appunto poi lì è veramente la CGI peggiore quegli scherti fanno veramente cagare ma anche alla fine lì il demone Sarbac sono già scordato guardate quanto sono intelligente è Sabac scusatemi Sabac lì il design mi fa veramente cagare è il classico una sorta di incrocio brutto tra il boy e il diavolo che si vede in legend di Ridley Scott fatto con una CGI in un altop che poi viene ucciso male alla fine in quella battaglia finale e boh vabbè tra l'altro Black Adam che che appunto che gli dicono no non ti uccideremo però ti terremo invernato vita natural durante sarà come se fossi morto e allora uccidio le fai prima sinceramente cioè le prigioni in cui ti tengono in coma non le ho mai capite a questo punto ammazzale basta perché non è che ci sia tutta sta differenza comunque a parte questo lui poi che alla fine si riprende perché viene liberato da Fate tra l'altro picchia e ammazza le guardie che poverino erano solo lì a fare il loro lavoro e a tenere dei criminali sotto controllo per carità in una maniera ripeto orribile però comunque stanno tenendo sotto controllo dei criminali e la cosa è pure eroica lì sempre con quei ralenti del cazzo poi alla fine lui emerge dall'acqua dopo che ha nuotato Shazam e si trasforma e va a salvare tutti eccetera va bene alla fine quindi arriverà Shazam a dirgli ma che cazzo tu sei l'ultimo di noi no perché siccome The Rock ha insistito tanto torna Henry Kevin nel ruolo di Superman e i due si scontreranno e hanno annunciato Man of Steel 2 ora il titolo è provvisorio magari non sarà veramente un seguito dell'uomo d'acciaio sarà un reboot sempre con Henry Kevin ma se davvero vogliono ancora continuare gli Sixth and the Universe che hanno resumato Kevin e stanno davvero resumando il Batman di Ben Affleck lasciatemelo dire alla Warner sono dei completi coglioni ritardati e voi direte no non si dice così porta rispetto no porca di quella vacca la DC al cinema è andata a puttane per colpa di Batman v Superman ed è inutile che ci siano gli zaneriani che dicono no non è vero Batman v Superman è arrivato al cinema ha incassato tanto ma comunque meno di Civil War quindi lo scontro tra Iron Man e Capitano America è stato più visto ed era più atteso dello scontro tra Batman e Superman ditemi voi se è possibile il film è stato oggetto di meme e di perculate per un sacco di tempo ricordiamoci il Marta che tra l'altro è anche tracimato in quel cazzo di save motra del MonsterVerse di Godzilla vs Kong che motra manco c'era in Godzilla vs Kong e per 5 anni noi fan del MonsterVerse ci siamo dovuti subire quel cazzo di meme che rottura di palle e già sta cosa a me fa incazzare però appunto meme per curata l'universo che non sapevano cosa fare adesso non richiamiamo lui no cazzo se la dovete staccarvi da quella roba c'è chi dice ma non è facile quanti soldi rischio di perdere quei prodotti già in produzione eccetera ok non è facile ma così cioè andare a temtoni ma secondo me quando esce il Superman magari fa anche successo perché Henry Cavill come attore più che il personaggio in sé perché ricordiamolo quel Superman nel 2016 è morto e non è fregato un cazzo a nessuno mentre la gente ha pianto per un anno per la morte di un cazzo di albero che non sapeva far altro che dire io sono grutto a quella morte di quel personaggio è stata molto più triste e io ero uno di quelli che si è dispiaciuto nel vederlo morto pur sapendo che sarebbe tornato quindi ditemi voi è stata più triste cioè siamo a questo livello e lo ritirate fuori però visto adesso il costume è più chiaro ma se sempre quel cazzo di personaggio che poi anche lì seguirà quello di Justice League seguirà quello della Snyder Cut che aveva il costume nero per motivi X che nessuno ha voluto spiegare perché voleva onorare il suo retaggio criptoniano che aveva sfanculato in meno still però molto coerente Snyder mi dicono boh non lo so per me questa è veramente un'idiozia l'ha voluto The Rock e ok allora The Rock può essere il distruttore dell'addizione il suo salvatore sarà il suo distruttore perché continuano sulle macerie di una cazzo di roba che ha fallito nel 2016 e qualcuno dirà e lo dici solo perché a te non piace a me piace Episodio 8 ma se Rian Johnson torna a fare un altro film di Star Wars io mi incazzo perché dopo tutta la merda che gli è stata spallata sopra e dopo tutto quello che gli è stato detto non lo puoi riprendere perché il casino volentino lenti l'ha fatto lui io sono uno di quelli che sarebbe anche felice a livello personale di vedere altri film di Star Wars diretti da lui però per coerenza non lo puoi ritirare fuori a meno che il fandom non dica a gran voce scusa ci siamo sbagliati ma devono dire ci siamo sbagliati non ci è sempre piaciuto Rian Johnson come adesso qui non sbagliare uno che è sempre piaciuto al pubblico non è un cazzo vero scusate lo sfogo ma è veramente questa situazione non la sopporto più si dice tanto che poi le del pool 3 per essere interessante devi resumare Hugh Jack ma non è un po' triste si lo è ma almeno li riesumi un personaggio che è davvero amato da decenni non questo non il Superman di Harry Kevin che ripeto non frega niente a nessuno che poi anche qui cosa farà Superman gli dirà no non si uccide così la gente te che cazzo hai fatto col dittatore là tra l'altro sei andato là dal dittatore per salvare lo Slane però quando si dice a Kandaki i supereroi non sono mai intervenuti perché e molti diranno è la classica ingenuità degli universi condivisi ho capito ma qui veramente fa ridere cioè negli altri casi più provano a spiegartela del tipo non lo so Hank Peeam aveva smesso di essere Antwerp per tenere nascosta la sua tecnologia ed è per questo che tra l'altro non coinvolgeva gli Avengers nel furto del primo film il Wakanda è sempre stato isolato e tutto il primo Black Panther si basava su quello Capitan Marvel strano che Nick Fury non l'abbia chiamata quella la forzatura maggiore ma almeno ti dicevano era chissà dove dall'altra parte nella galassia Nick Fury ha creato gli Avengers apposta per per fare in modo di non doverla chiamare sempre e gli stregoni proteggono la realtà spirituale lasciando agli Avengers la difesa delle cose più terrene erano a volte delle risposte un po' forzate ma almeno provavano a dartele qui dove siete stati finora perché non avete mai aiutato Kandak non rispondono eh dovrei così perché? siete supereroi ci sono degli accordi in stile accordi di Sokovia io non lo so a parte che mi devono spiegare come cazzo fanno i supereroi a lavorare per Amanda Waller quella crea la fottuta sui 6 squad perché non mi fido dei cazzo dei supereroi è perché serve gente che si sporchi le mani a differenza a loro quindi dovrebbero essere loro gli eroi sporchi non il cazzo di Black Adam però vabbè diciamo che questa ridondanza anche che cazzo di senso ha fare un film su Black Adam quando c'è un personaggio che ha già gli stessi poteri vabbè comunque Amanda Waller che non si fittava i supereroi no qui c'era gli Assist Society ora io sono il primo a dire che le salgano contraddizioni e cose del genere ma qui veramente siamo a dei livelli in cui ti vengono a dire ma mi prendi per il culo e manchi la Marvel nella fase 4 sti cazzi numero 1 se sbagliano loro un motivo in più perché qui non dovrebbero sbagliare la DC che almeno li cula visto che ora stanno un po' scricchionando con la fase 4 in secondo luogo avranno anche avuto i loro momenti di contraddizioni ma cazzo rispetto a questa la Marvel è veramente 10 lampe di scale sopra e che altro c'è da dire normalmente qualcosa vabbè c'è lo zio c'è lì il fratello di Adrianna che questa macchietta classica giusto l'unica cosa carina è dottor fake che gli dice se non vuoi morire stai lontano dall'elettricità ma io sono elettricista ok quella era carina rovinata da lui che va lì a pestare lo scheletro non importa tanto so che morirò per l'elettricità eeeh sì per caso che dottor fake ha detto che il futuro si può cambiare quindi non è che sei proprio al sicuro tra l'altro sentire fake che dice ho visto innumerevoli futuri involontariamente ti fa pensare a strange ovviamente fake è uno che vede il futuro nel caso si chiama il dottor fato quindi ok però purtroppo dopo i 14 milioni di futuri di dottor strange ancora una volta la dc sembra involontariamente sembra involontariamente che la dc copi la marvel eh poracci non gli va mai bene in questo senso ahi chiudendo i discorsi superman amanda waller superman davvero ascolta amanda waller ma che cazzo c'è amanda waller era un pezzo di merda di nuovo oh ce lo ricordiamo questo film ok che ha flopato e non l'ha visto nessuno ma cazzo è il miglior film del dc extra new universe qualcuno si ricordi come era amanda waller in questo film grazie vabbè casini casini su casini detto questo questa recensione finita in sfogo finisce qui grazie per averla seguita se vi è piaciuta mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate e ci vedremo a un prossimo video in cui spero di trattare qualcosa di meglio di questa schifezza ciao ciao ragazzi ciao